Chi è Socrate? Usiamo la domanda socratica a proposito di Socrate. Chi è Socrate? Anche se è una domanda impropria, nel senso che in genere le domande socratiche sono volte alla definizione di concetti universali. Socrate non è un concetto universale ma è una singola persona. Partiamo da una definizione che Alcibiade, personaggio del dialogo di Platone, Simposio, che già conoscete perché ve ne ho parlato, almeno vi ho parlato del mito di Eros, della nascita di Eros, subito dopo la parte dedicata a Eros, alla descrizione, alla narrazione del mito della nascita di Eros, arriva Alcibiade, si unisce alla comitiva, Alcibiade è decisamente brillo, ha bevuto tanto che in un'altra parte va a bere ancora di più, quindi immaginatevi. E comunque come si dice in vino veritas, il vino scioglie la lingua e Alcibiade inizia a fare una serie di discorsi intorno a Socrate e lui ci dice chi è Socrate. Ovviamente qui stiamo parlando di Socrate, personaggio del dialogo di Platone e il Simposio, e di Alcibiade, personaggio del dialogo di Platone e il Simposio. Però, insomma, immaginiamolo in questa maniera. Alcibiade va lì e inizia a parlare di Socrate, dice ma Socrate è un personaggio eccezionale. Pensate che io, con Socrate, io Alcibiade, forse non vi ricordate il personaggio, grandissimo statista, grandissimo politico ateniese, un personaggio che a un certo punto è di nobile famiglia ateniese del partito aristocratico, che a un certo punto, quando i democratici riprendono il potere, si allontana da Atene, passa al nemico, fa politica autonoma, poi va dal sovrano persiano. Insomma, un personaggio sui generis. All'epoca, un personaggio stimatissimo, era della gioventù d'oro di Atene. Di nobile lignaggio, bellissimo. Alcibiade, da giovane e anche da uomo maturo, è bellissimo. È bellissimo, ma questo non lo dicono le donne, che non hanno nessuna voce in capitolo, lo dicono gli uomini. Vi ho già parlato della possibilità, insomma, del rapporto omosessuale, ma dell'eros che è fondamentalmente pedagogico, perché a stare al mondo si impara attraverso le belle parole, ma fondamentalmente si impara attraverso l'imitazione. Per questo un pedagogo, un uomo maturo, viene affiancato a un giovane, affinché attraverso l'imitazione, stando con lui, nella realtà con lui, impari a stare al mondo. Allora, Alcibiade è bellissimo e a un certo punto lui dice, ma a me mi avevano messo vicino a Socrate. Io proprio stravedevo per Socrate, in genere, la funzione dell'amante ce l'ha l'uomo maturo. L'amato è l'efebo, il giovanotto per così dire, che non è ancora di primo pelo, ve l'ho spiegato l'altra volta. E in genere lui è l'amato, l'amato che in qualche maniera può ricevere le attenzioni dell'amante e così via. Lui invece si è proprio innamorato di Socrate, si è innamorato di Socrate e lui dice, ma io ci ho provato tante volte con Socrate. Una volta, addirittura, lui era sdraiato lì che ronfava, mi sono messo a letto insieme a lui, e lui non mi ha degnato di uno sguardo, non mi ha degnato di un'attenzione, non si è nemmeno svegliato, mi ha proprio ignorato. Cioè, se ti entra al cibiate a letto, insomma, è come se il sex simbolo di oggi, non so quale potrebbe essere, sarà una creatura più o meno virtuale, ma è tutto virtuale, vi si mette a letto, insomma, o siete dei catari, vi ricordate la prova dei catari, la prova del nome, era quella di giacere nudo in un letto in mezzo a due vergini, ecco, lì, stare a letto a qual cibiate, e Socrate non mi ha proprio guardato. È un personaggio veramente strano. Poi lo identifica Socrate, fa un paragone, una bella metafora. Siete presente le matriosche russe? Oddio, forse oggi non si può dire, è politicamente scorretto. Sono delle statuine, tu le apri, dentro ci sono altre statuine, le apri, poi sempre più piccole, e vivi, no, all'ultima statuina. È un gioco di specchi, fantastico. E all'epoca c'erano queste statuine, di satiri fuori, erano dei satiri che si smontavano, e rivelavano tanti altri segreti dentro. E dice, Socrate è un personaggio un po' così, è un personaggio fatto a strati, non lo conosci mai veramente, non è quello che appare di prima a Chito, è un personaggio, lui dice, Atopos. Atopos, non luogo. Atopos vuol dire, è uno strano, è uno che non riesco a collocare da nessuna parte, è uno che sfugge. Ma come lo definisco? Socrate, personaggio anormale, fuori luogo. Sapete, oggi noi usiamo questa parola, è strano, coraccio, è fuori, è out. È uno proprio strano. Non riesci mai a mettergli un'etichetta a Socrate, no? Cerchi di fermarlo lì, cerchi di fermarlo lì e lui ti sfugge, come un'anguilla. Ed è anche un personaggio, peraltro, estremamente pericoloso, ti fa arrabbiare. Io mi ero innamorato di Socrate, lui mi ha dato buca. Mi ha dato tanti insegnamenti molto belli, ma a un certo punto mi provocava continuamente. Mi veniva voglia di farlo morire, di ammazzarlo con le mie mani. Oh, Socrate poi lo ammazzano realmente. Platone lo mette in bocca ad Alcibiade nel simposio. Mette in bocca questo aggettivo, questa espressione, atopos, strano, non collocabile, atopico. Avete presente la dermatite atopica? E questo è un uso che facciamo, è una parola greca, che facciamo oggi di atopos. La dermatite atopica, sapete che cos'è? E quella dermatite, il dermatologo non sa da che cosa dipenda. Per cui, ebbè, te la gratti, ti do la cremina. Però è atopica? Non so bene di che cosa si tratti. Sarà forse di origine psicosomatica. Atopica vuol dire, è strana, non è ben classificabile. Non è né questo né quello. Insomma, Socrate è un personaggio sfuggente. Ha voglia di mettere le etichette in fronte, no? Come si fa in quei giochi di società in cui si mette le etichette in fronte. Poi bisogna indovinare, io sono, tu sei, eccetera, eccetera. Socrate è sfuggente. Prova a ferrarlo e un'anguilla mi sfugge via. Assomiglia a un satiro. C'ha sto nasone, la pappagorgia, il ventre. Anche perché Socrate è anziano all'epoca. Alcibiate è molto giovane. Ma Socrate, però io mi sono innamorato. È un personaggio assolutamente affascinante. Non riesco a capire perché mi sono innamorato di uno così brutto. Ma mi sarei concesso pure a Socrate. È un personaggio eccezionale. Non sai come prenderlo. Pensate che una volta, racconta, durante la campagna militare di Potidea, quando la schiera oplitica ateniese era in rotta, eravamo stati sconfitti. Sapete, no? Vi ho già spiegato come funzionavano gli scontri degli opliti greci. Una schiera si rompe. Quando una schiera si rompe, tendenzialmente che si fa? Si salvi chi può. Si salvi chi può. Quindi chi può fugge via, gira le spalle e fugge via. E per fuggire via, però, non te puoi, non puoi fuggire con lo scudo che pesa l'ira di Dio. Getti via lo scudo e scappi. Quando getti via lo scudo e scappi, tu metti in pericolo non solo la tua vita, perché offri la schiera al nemico, e non c'è morte peggiore, più disonorevole, di quella di essere colpito alla schiena. Morire con una ferita sul petto vuol dire che tu fino all'ultimo hai combattuto. Morire con una ferita alla schiena vuol dire che stavi scappando. Va bene? E perché disonorevole il fatto che tu venga ferito alla schiera? Perché se stai scappando hai messo in pericolo non solo la tua vita, ma anche i tuoi compagni. Hai rotto la schiera, perché hai gettato lo scudo e ti sei dato a gambe. Allora lui dice, mentre tutti si davano a gambe, Socrate manteneva la linea e indietreggiava con la lancia e lo scudo, e mi è venuto a prendere a Cibiate, credo che facesse parte della cavalleria, era caduto ed era rimasto a terra, e Socrate lo protegge con il suo scudo, lo mette in salvo. Quindi Socrate dà prova di essere assolutamente fermo, assolutamente coraggioso. Al tempo di questa battaglia Socrate è tra i 40 e i 50 anni, non è esattamente un ragazzino, quindi è un personaggio che con l'età avrebbe potuto, in qualche maniera era più esperto, ma fisicamente doveva essere meno prestante di altri, che invece sarebbero dato assolutamente a gambe. E poi Socrate una volta mi ha stupito, pensate che una volta si è svegliato la mattina, si è immobilizzato. Si è immobilizzato in mezzo al campo, e gli altri soldati stavano lì a guardarlo, si è immobilizzato, preso chissà forse da un pensiero, si è messo là in meditazione. Avete presente come quei monaci zen che si immobilizzano e rimangono lì per una giornata intera in meditazione? Ecco, lui si è immobilizzato, è un ponte verso l'Oriente in un certo senso, e dopo un pochino la gente si è messa lì, vabbè adesso si muove, passa un'ora, due, sale il sole, mezzogiorno, il sole le spacca la testa, insomma, niente, lui sta ancora lì, la gente chiama, guardate un po' quello che sta facendo, lì c'è Socrate, si è immobilizzato, ma fuori da testa, arriva la sera, sta sempre lì fermo, si accendono i primi fuochi, e qualcuno si mette lì e dice, senti io stasera non vado a dormire, voglio vedere questo quanto resiste. Tutta la notte così, fermo, immobile, sorge il sole, fa i suoi esercizi igienici, saluta il sole e se ne va, tranquillamente, un giorno intero in meditazione. Cioè un personaggio eccezionale, forte, resiste, resiste, regge in maniera incredibile la pulsione sessuale, cioè non ceda dal cibiate, regge il vino meglio degli altri, beve, quando si ratta di bere, pure sovredegli da giù, indubbiamente, ma lui tendenzialmente non si ubriaca, quindi è padrone, è padrone del proprio corpo e della propria mente. In greco si dice encrateia, l'autodominio, encrateia, la forza interna, interiore. L'encrateia, l'esercizio dell'encrateia, cioè del controllo delle passioni, dei bisogni, delle dipendenze, diremmo noi oggi, fa di te un personaggio autarchico. Un'altra parola chiave che vi dovete segnare è autarchia. Autarchia, in italiano lo traduciamo con, lo traslitteriamo, lo mettiamo con autarchia, autos arcomai, io domino me stesso, io comando me stesso, io basto a me stesso, sono autosufficiente. autosufficiente. Socrate è il modello di saggezza, di saper stare al mondo, di saper stare al mondo. Per questo però sfugge a tutte le definizioni, è Atopos, e fondamentalmente è un personaggio pericoloso, per alcuni versi, poi vi spiegherò in che senso è pericoloso, e ti fa innamorare, perdutamente di lui, ti affascina, non sai nemmeno in che senso sei affascinato, ma ricordatevi che Eros è filosofo, Eros è filosofo, ti fa innamorare in un certo senso, scoccando le sue frecce, quindi lui ti fa innamorare con la sua personalità, con la sua anima atopica, ti innamori di lui proprio perché è strano, non è convenzionale, fa dei discorsi e si comporta in una maniera assolutamente non superficiale, assolutamente non standardizzata, assolutamente non anonima, non te lo aspetteresti, non è un influencer, non fa quello che dicono tutti e che fanno tutti, non è il principe dei luoghi comuni, è uno che ha una personalità così forte da risultare assolutamente strano e affascinante, perché quando ti si avvicina un personaggio del genere, se tu hai ancora un po' di Eros dentro e ti sale nella zucca, tu gli vai appresso, attenzione però, gli vai appresso al tuo rischio e pericolo, perché lui è assolutamente pericoloso, perché lo avete visto come fa Socrate, quando Socrate inizia a parlare e ti inizia a martellare con la sua brachilogia, le piccole domande, domanda, risposta, e insiste, 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 ti mette sempre più in difficoltà, perché non è che ti fa parlare di concetti astratti, chiama in causa te, proprio te, e ti mette davanti a quello che dentro la tua anima cerchi di nascondere e che magari non funziona bene, sapete, è così per tutti, non c'è bisogno poi di essersi letti chili e chili i manuali di psicologia, ci arriviamo tutti quanti, quando è che uno, un amico o un tuo conoscente ti si rivolta contro e a un certo punto diventa iracondo oppure ti si allontana? Quando tu, tu, che fai, in quel caso, da specchio, metti il dito, magari a volte anche senza volerlo, su un tasto, una nota dolente, quando io tocco un punto che tu stai faticosamente nascondendo a te stesso perché di questo non vuoi sapere perché ti fa male e noi la polvere la buttiamo sotto il tappeto come ci insegna Freud e la rigettiamo nell'inconscio è meglio non vederla quella cosa che ci fa male, fermo le stando e quando la mettiamo poi sotto il tappeto la polvere alla fine esce fuori o quando la facciamo marcire nell'inconscio poi alla fine ci provoca altre patologie. Il lavoro dello psicanalista qual è? È quello di tirare fuori dall'inconscio questi contenuti che non volevamo guardare che avevamo nascosto a noi stessi l'anzano nascondere. Cioè in senso metaforico ti gratto via la crosta e faccio scorrere il sangue vivo affinché tu lo veda e quindi tu devi soffrire l'autoanalisi è un lavoro di sofferenza la filosofia il dialogo filosofico tu ti sei entusiasmata fino a un certo punto ma tu ti entusiasmerai ancora di più quando il discorso ti metterà in crisi ti metterà in discussione ma a un certo punto arriverai ad un punto che non vorrai più sentirne parlare perché magari siamo arrivati a toccare un punto dolente e quello lì vuoi che rimanga lì nascosto. E allora belle conversazioni belle conversazioni a un certo punto Socrate che non risparmia nulla a nessuno perché il compito del filosofo non è dirti la verità perché Socrate dice di non sapere nulla so di non sapere ma quale verità non esiste una verità con la V maioscola o forse esiste ma insomma ricerchiamola insieme il punto fondamentale è che Socrate quando dialoga pretende da te ti mette in discussione un'altra cosa che i greci chiamano parresia che vuol dire franchezza parresia vuol dire reo scorrere pan lasciar scorrere via tutto il flusso ve lo dico in termini psicoanalisi il flusso di coscienza si metta comodo qui sul lettino io metafora classica dello psicoanalista mi metto dietro di lui mi dica qualunque cosa libera associazione parli mi racconti il suo sogno eccetera eccetera pan reo parresia franchezza mi sento libero di dire tutto quello che voglio mi metto a nudo ma l'operazione di mettersi a nudo nella propria coscienza nella propria anima è un'operazione rischiosa bella entusiasmante forse all'inizio ma estremamente pericolosa perché magari vai a toccare dei nervi scoperti tu con te stesso e Socrate ti incalza e ti chiede conto se tu dici ah secondo me bisognerebbe fare così lui è quel rompiscatola che ti dice perché in quella circostanza tu che parli tanto di onestà adesso dico per dire ti sei comportato in maniera disonesta e come mi giudichi questo e questa roba qui la gente la fa letteralmente imbestialire la fa veramente imbufalire soprattutto quando questo discorso poi non lo faccio in privato sul lettino lo psicanalista lo faccio in pubblico lo faccio in pubblico quindi Socrate è un personaggio pericolosissimo e infatti lo processano gli Atenesi e lo condannano a morte e per quale motivo? a un certo punto nell'apologia di Socrate uno dei discorsi più socratici che ci sia uno dei dialoghi più socratici di Platone è dedicato proprio a Socrate è il discorso che Socrate apologia è il discorso in difesa di e il discorso che Socrate avrebbe pronunziato in tribunale in difesa di se stesso lui rinuncia anche a farsi scrivere la difesa da un grande oratore un grande retore del tempo Lisia gli aveva proposto te la scrivo io dice no guarda non riesco a difendermi da solo lui si presenta modesto ignorante io sono di poche parole non è assolutamente vero Socrate è un personaggio estremamente ironico e quindi fa questo discorso in difesa di se stesso ovviamente il testo è di Platone come al solito ma secondo la critica va da sé il testo è molto vicino è stato scritto molto vicino ai fatti quando muore Socrate nel 399 quando viene ucciso Socrate nel 399 avanti Cristo Platone che era nato nel 328 427 aveva 20 anni Socrate ne aveva 70 era nato nel 470 469 quindi era molto più anziano di Platone Platone è l'apologia di Socrate non sappiamo la data esatta ma probabilmente è abbastanza vicina ai fatti quindi si ricorda bene ma poi Platone è un grande artista un grande scrittore quindi non siamo in grado di dire esattamente cos'è di Platone cos'è di Socrate cioè non è che stava lì a stenografare il discorso di Socrate però è molto verosimile a un certo punto Socrate dice ma voi mi accusate ma io effettivamente non so assolutamente nulla però credo di aver capito il motivo per cui mi avete portato qui in tribunale perché le accuse che mi state muovendo che mi muovono gli accusatori Anito Meleto e Licone sono delle accuse assolutamente ridicole e di queste lui si era liberato immediatamente corrompere i giovani e introdurre nuove divinità in Atene e lui si era difeso ha detto guarda sono accuse ridicole adesso vi dimostro che sono ridicole a un certo punto dice io però credo di aver capito il motivo per cui mi volete processare forse ci avete mi sono fatto un sacco di nemici beh certo che si è fatto un sacco di nemici perché a un certo punto un mio amico è andato a Delphi e ha chiesto è un oracolo e la Pizia gli ha dato questo oracolo l'uomo più sapiente di Atene e gli aveva chiesto qualcosa del genere l'uomo più sapiente di Atene è Socrate mi porta questo Cherofonte mi porta questa notizia lui dice Cherofonte è morto ma c'è qui ci sono i familiari loro possono testimoniarlo mi è venuto a dire questo ma io ma io non so nulla io so di non sapere ma io non mi ritengo affatto un sapiente ma come fa la Pizia a dire una cosa del genere eppure la Pizia parla per conto di Apollo e gli dèi non mentono per quanto gli dèi le cose le dicono in maniera enigmatica ma non mentono e allora facciamo così mi metto ad indagare perché lui è uno che indaga e allora che ho fatto cari concittadini sono andato da quelli che hanno fama di essere sapienti e li ho interrogati ci ho parlato con loro per vedere se sono effettivamente sapienti i politici quelli che reggono lo Stato e gli statisti i grandi oratori quelli che hanno fama di sapere ci ho parlato con loro li ho interrogati e sapete che ho scoperto? che credono di sapere fanno finta di sapere ma la maggior parte di loro non sanno assolutamente nulla e non sanno nemmeno di non sapere sono pure arroganti presumono di sapere peggio ancora peggio mi sento e lì mi sono fatto un sacco di nemici poi vi chiedo a che cosa corrisponde questa metafora questa immagine e beh poi non me mica mi sono arreso Socrate non è uno che si arrende facilmente cioè è rimasto immobile un giorno intero aveva retto lo scontro contro la falange nemica arretrando con lo scudo l'arancia figuriamoci se si spaventa di fare domande sui concittadini sono andato dagli altri dai poeti eh quelli che hanno fama di sapere quelli che conoscono Esiodo e conoscono Omero quelli si che sanno viva il Dio e li ho interrogati e ho scoperto che effettivamente sono bravi sanno un sacco di cose mi raccontano Omero mi raccontano Esiodo ma se poi gli chiedo conto del contenuto o gli chiedo il significato di quello che dicono e non me lo sanno spiegare non ci hanno mai riflettuto sanno ripetermi le cose che è molto bello un po' come qualcuno di voi l'interrogazione mi ripete le cose senza capire bene quello che sta dicendo però qualcosa effettivamente i poeti la sanno quest'arte la possiedono però mi fanno capire come funziona la realtà come funzionano le cose me la descrivono in termini poetici e poi sono andato dagli altri dai mi gioco l'ultima carta vado e dagli artigiani da quelli che si occupano di tecne eh e quindi vado beh lì alla tele c'erano un sacco di figure diverse vado dal fabbero vado da quello che costruisce le cantieri navali che costruisce le navi vado da eccetera eccetera e quelli li ho interrogati e cavolo e quelli sapevano sapevano un sacco di cose limitatamente al loro campo professionale e quindi c'è un fabbro gli chiedo come funziona il lavoro come si lavora il ferro lui me lo sa spiegare bene o male anzi anche molto bene tanto di cappello lui sa lui sa il punto fondamentale è che il fabbro a un certo punto ha appoggiato il martello quando va al bar alla taverna del tempo crede di sapere anche di poter dire anche questioni di poter ragionare anche su questioni che non hanno nulla a che vedere con l'arte del fabbro con la metallurgia ma parla di politica parla di e pensa di sapere tutto pure lui crede di sapere e non sa di non sapere questo sta dicendo e anche lì mi sono fatto dei nemici ho andato a pestare i piedi a tutti avete capito a tutti dalla classe alta a quello più basso cioè capite Socrate gira per la cora scalzo poi è un personaggio che viene rappresentato in questa maniera è una specie di clochard oggi lo troviamo lì che ne so alla stazione termini a parte che la povertà si è talmente diffusa in Italia che lo troviamo un po' dappertutto male in arnese e se lava quando capita se se lava c'ha sempre la solita tunica unta e bisunta cioè un personaggio che non gli dareste come dire è atopico è atopico è atopico chi è che si avvicina a un personaggio del genere poi ti riempie di domande è un rompiballe per me la gente fa finta di non vedere io c'è Socrate aspetta mamma mia c'è Socrate poi c'è un sacco di amici e un sacco di persone che lo amano profondamente sono ammirati lo seguono dappertutto però poi c'è fatto un sacco di nemici e allora a un certo punto dice eh so capito mi sono fatto un sacco di nemici effettivamente non è che dice però che vi devo dire sono stato un cretino perché a un certo punto dice beh io non potevo fare altrimenti questa era la mia missione io sono nato per questo c'è un personaggio si chiama Daimon il Daimon leggi la coscienza il Daimon questa figura semidivina che sta qui nella mia testa un po' come il grillo parlante di Pinocchio che quando io faccio qualcosa che non va bene mi fa vergognare ad avercela una coscienza eh viva il Dio non va molto di moda in questi tempi forse nemmeno al tempo di Socrate mi dice di fermarmi mi avverte mi fa suonare un campanellino ma quando io invece agisco come si deve se ne sta lì buono e zitto oh il Daimon non ha fatto un fiato dunque io dovevo agire così non potevano agire così mi rendo conto di essermi fatto un sacco di nemici alla fine ho capito aveva ragione il Dio attraverso la bocca della pizia lui aveva ragione io sono il più sapiente perché so di non sapere e non pretendo nemmeno di sapere quello che non so e ho dedicato la mia vita alla ricerca proprio per questo motivo oh ho un personaggio del genere se puoi lo fucili per una serie di motivi allora oggi non va più tanto di moda anzi forse non va più di moda oggi ci vorrebbe un Socrate virtuale ecco mi ricordo vent'anni fa una studentessa scrisse un racconto sul Socrate sul Socrate della nuova generazione era 2004 2003 figurate come non erano ancora nati e questo Socrate si presentava alla coscienza di più come virus informatico ecco oggi Socrate potrebbe essere un virus informatico cioè uno che ti fa ragionare nonostante tutto che ti tira fuori dai luoghi comuni che mette il dito nella piaga che ti fa prendere a forza avete presente la metafora di Matrix ti infila a forza in bocca la pillolina quella che ti risveglia ma tu non ti vuoi risvegliare perché è comodo risvegliarsi per alcuni versi poi vi racconterò il mito della caverna di Platone che è fantastico sotto questo profilo e allora Socrate lo dobbiamo mettere a morte perché è un personaggio fastidioso e oggi sarebbe un giornalista non esistono più dei giornalisti i giornalisti di oggi sono semplicemente dei propagandisti sono dei passacarte del potere costituito il giornalista quello di indagine è dicevano gli americani una volta il cane da guardia del potere è uno che mette in crisi che fa domande scomode a chi detiene il potere che mostra le contraddizioni rendendo un servizio pubblico opinione pubblica si chiama questo facendo ragionare la gente se non fai domande scomode che giornalista sei non fai informazione fai propaganda ecco Socrate giornalista intellettuale impegnato un vero e proprio rompiballe o gli intellettuali impegnati non è che muoiono soltanto all'epoca di Socrate o nel 1600 con Giordano Bruno che prende fuoco così perché aveva detto delle cose un po' diciamo contrastanti col pensiero dominante gli intellettuali vengono ammazzati anche oggigiorno comunque vengono messi in condizione di non poter parlare no prendete Pierpaolo Pasolini nel 1975 il modo in cui è morto ancora non si è chiarito bene evidentemente è stato fatto fuori perché era un intellettuale scomodo assolutamente scomodo come tante altre voci in genere fanno una brutta fine oppure vengono semplicemente disattivati oggi basta che te spengo il cellulare ti tiro fuori dal mainstream e di fatto ti ho già fatto fuori ti ho già esigliato non c'è nemmeno bisogno che ti liquido fisicamente ma insomma se tornassimo all'epoca di Socrate il liquidare il personaggio facendogli bene la cicuta ci può tranquillamente stare un'altra cosa metterlo a morte è il governo democratico di Atene che si è rinsediato dopo la parentesi del regime dei trenta tiranni aristocratici che avevano fatto il buono e soprattutto il cattivo tempo Socrate Socrate è accusato di fatto in qualche maniera è vicino per ragioni familiari di amicizie al partito quello aristocratico Platone uno dei suoi allievi prediretti è figlio di una famiglia che può vantare tra i suoi antenati degli antichi re di Atene quindi un aristocratico Doc Platone Crizia Alcibiade e lui sta gente la frequenta però lui non è schierato di fatto da nessuna parte lui è schierato da una parte sola si chiama filosofia si chiama ricerca della verità e quindi pesta ai piedi anche ai tiranni quando i tiranni gli ordinano lo sappiamo dalla settima lettera di Platone quando i tiranni ordinano a Socrate durante il regime dei trenta tiranni di andare a prendere tale Leonzio di Salamina personaggio sgradito al potere costituito che in teoria era aristocratico e quindi vicino a Socrate o meglio Socrate era associato a questo partito dai democratici era il partito democratico Socrate dice beh sai qual è la novità mi mando io non ci vado ma come non ci vai questi poi se la prendono con te vabbè la coscienza mi dice non ci devo andare non ci vado quindi lui non obbedisce nemmeno agli ordini di tiranni lui non è non è né della Roma né della Lazio perché capite capite dove sta il filosofo da che parte sta o starebbe oggi il filosofo il libero pensatore l'intellettuale impegnato in quale in quale faglia del discorso collettivo si situerebbe il personaggio tu che sei filo russo filo Putin o contro Putin tu che sei per i vaccini o contro i vaccini tu che sei della Roma o della Lazio avete presente questa questa necessità tirannica impellente idiota perché ci rende degli idioti di dover tagliare la realtà di mettere etichette e tagliare la realtà e catalogare le persone secondo categorie per costituire tu che sei aristocratico o democratico tu che sei nero o bianco Socrate non si colloca è Atopos ma perché Atopos ma io non sto da nessuna parte io non gioco la vostra stessa partita non ci credo ai luoghi comuni non credo che il mondo si divida in neri e bianchi io guardo l'uomo interrogo l'uomo ragiono con la mia testa aiuto le persone a ragionare le induco a ragionare provo a farle ragionare nel loro stesso interesse Socrate ti educa grande educatore ti educa grande pedagogo facendoti ragionare facendoti diventare protagonista in prima persona oh scusate queste cose che vi sto dicendo le avete già sperimentate nel dialogo socratico quando lo avete fatto voi adesso stiamo facendo un po' un rendezvous per farvi prendere coscienza se le cose come ve le sto dicendo adesso riuscite a focalizzarle a riviverle a ricollocarle rispetto alla vostra esperienza vissuta prima delle vacanze quando abbiamo fatto il dialogo socratico franchezza mettersi in discussione ragionare la propria testa non c'è un partito preso non ci stanno i buoni e i cattivi i neri e i bianchi i romanisti e i laziali ci stanno persone che si mettono in discussione che ragionano e queste persone qui sono sono oltremodo pericolose perché se tu non scrivi oggi tu che posizione prendi arma di distrazione di massa clamorosa ridicola ma la gente ha perso la capacità di ridere perché non sa più ironizzare è ironia è un'altra parola greca e ha molto a che vedere con Socrate la gente non se ne rende conto tu da che parte stai? stai dalla parte dell'influencer non mi ricordo come si chiama Ferragni mi pare o stai contro quell'influencer? capite? c'è il partito pro e il partito contro una massa di deficienti quale noi dovremmo essere se cadissimo in questo gioco si dovrebbe pronunciare su una fissione di uno squallone di un disinteresse scusate un grosso chi se ne frega ci potrebbe stare ma no quello è importante a piena pagina mentre il mondo sta cambiando stiamo assistendo a un periodo di trasformazione si sta ribaltando letteralmente i termini geopolitici economici eccetera eccetera le armi di distrazione di massa prevedono che gli idioti noi i più i più o i polloi vedete quando Eraclito diceva uno per me vale centomila se pensa con la sua testa o i polloi oggi quelli tutti noi che seguiamo gli influencer che seguiamo questo che crediamo a questa roba qui ci facciamo distrarre da queste cose così tu non penserai al fatto che per prenotare una visita dal medico te ce vogliono tre anni ti intripperai sul fatto che no ma io sono contro ah io vedi sono political correct sono ben pensato tu sei green io sono molto green ecco tu mi vedi da piangere quasi a pensare eccetera eccetera gli slogan gli slogan che però attenzione non li devi sottoporre a critica non devi chiedere ti è sti scusa ma tu quando dici quando usi quell'affermazione lì quando hai coniato quell'etichetta e mi parli di green e mi parli di filo putin o mi parli di x piuttosto che di y ma che cosa stai dicendo ti esti io non lo so eh ti chiedo conto a te tu lo sai pretendi di saperlo c'è sta gente che si scanna romanisti contro raziali ma che vuol dire essere della roma che vuol dire me lo spieghi chiediglielo ah vabbè scusa ne parliamo dopo no no voglio saperlo qui ed ora vabbè ciao ci vediamo socrate te parto con luogo comune ti racconto il luogo comune finisco le parole socrate ti fa l'ennesima domanda che ti mette in contraddizione con te stesso o con te stessa e tu a un certo punto già ti aspetti vabbè socrate ciao arrivederci perché perché a quel punto un altro passo e ti devi confrontare con te stesso cioè dovresti scoprire il tuo daimon la tua coscienza ma sai la coscienza poi rimorde la coscienza va tollerata la coscienza richiede encrateia e autarchia e chi è che si può permettere una libera coscienza oggi il più no il più sono addormentati o siamo addormentati attraverso le sirene della propaganda di massa eccetera quindi socrate se oggi tornasse qui in circolazione sotto nuove sfoglie lo metterebbero a morte ma forse non a morte semplicemente gli staccherebbero la spina gli chiuderebbero il canale youtube che ne so dico per dire ammesso che che avessi un canale youtube gli chiuderebbero il conto in banca con un click che ci vuole no lo speed te lo disattivo e tu non esisti più non puoi più prenotare nulla non puoi più entrare in banca non puoi più accedere alle strutture sanitarie e tanti saluti allora socrate è un personaggio estremamente pericoloso ed è ancora più pericoloso perché al potere ci sono tornati oi polloi il regime democratico socrate è antidemocratico questa è un'altra vexata question è una questione antica molto discussa socrate è antidemocratico ha fatto bene il regime democratico a metterlo a morte in un certo senso sì in un certo senso sì perché la caratteristica del filosofo militante della filosofia qual è? quella di creare imbarazzo è sempre stata contro tendenza tu che cosa vuoi? quando stai male che vuoi? vuoi che ti passa il male e come ti passa il male? e nell'immediato ti passa con una pillolina come metafora la potete declinare in tutte le maniere diverse possibile immaginabile hai questo bisogno ti hai comprati questa accattati questa cosa vedrai che sta bene dai prenditi questa cosa qui dai fai questa cosa qui guarisci? no ti spegni momentaneamente il male tutte le cose belle e salutari eh? Igea Igeia la salute e Socrate in un certo senso è un medico dell'anima un terapeuta se la vogliamo vedere in termini moderni e neanche troppo moderni eh? ti fa fare un percorso che è assolutamente opposto è un percorso faticoso che ti fa soffrire che ti gratta via le croste che richiede impegno e chi che non vuole fare questo percorso studiare un tempo fa mi sono distrutto ho studiato mi sono stanca certo studiare è stanca certo amare è stanca coltivare una relazione amorosa seria ricca impegnativa eh cavolo stanca parecchio le relazioni umane in generale stancano in una maniera terribile anche perché ci mettono continuamente alla prova ci mettono anche dinanzi alle nostre debolezze le nostre contraddizioni e chi è che lo fa nel discorso chi lo vuole fare quando io dico senti facciamo così dai mettilo in testa sto casco te la riprogetti come ti pare a te la tua donna ideale o il tuo uomo ideale nella realtà virtuale ben inteso è tutto più facile in un certo senso allora il filosofo che ti promette il filosofo ecco un'altra cosa che viene attribuita a storia è di essere filo spartano e anche in un certo senso non che gli ateinesi poi non fossero molto severi per carità e lui si paragona anche a un maestro di ginnastica o una ginnastica stanca certo che stanca la ginnastica ti devi fare un mazzo tanto ti devi allenare è faticoso ma poi i risultati che ottieni con quella fatica sono belli e sono duraturi ma ti ci devi impegnare le medicine sono tutte quante amare quindi il cammino che ti propone il filosofo che è un cammino in qualche maniera salvifico terapeutico è un cammino che si presenta con le vesti di un cammino assolutamente negativo disdicevoli innanzitutto contrasta col pensiero dei più guardate io ti propongo un cammino di introversione di riflessione personale di pensiero critico di pensiero divergente divergent è il titolo di una forse l'avete visto se io ti propongo un percorso di pensiero divergente tu che cosa fai? tu all'inizio magari ti interessa pure dopo di che alla prima volta che eserciti il pensiero divergente in seno alla comunità si fa per dire dei tuoi amici e delle tue amiche e dici ma io forse lì non ci vado non mi interessa tu in quel momento lì ti poni fuori dalla comunità e noi siamo animali sociali e quando siamo colpiti sul fatto di essere estromessi dalla comunità standard ci stiamo male quando corriamo il rischio di non ricevere più le attenzioni dei più dei nostri cari o delle persone che ci stanno intorno l'approvazione e perché temiamo tanto l'approvazione degli altri? per questo motivo allora esercito il pensiero critico? sono divergente già mi mettono fuori poi corro un sacco di rischi poi devo fare un sacco di fatica sai qual è la novità Socrate? ti saluto mi prendo la pillolina mi prendo il Prozac e tanti saluti Socrate quindi il cammino filosofico è sempre molto problematico un personaggio e un personaggio e uno fa riflettere quando uno fa riflettere i giovani che succede? crea dei personaggi che pensano la loro testa quindi dei potenziali ribelli dei critici delle persone attive che sono pericolose per il potere costituito ieri oggi domani quelli che non pensano quelli che pensano i luoghi comuni quelli che si mangiano le frattaglie dei social a quelli voglio dire che ci vuole a controllarli ti è mangia di sta roba poi ti do anche la pillolina per curarti la gastrite psichica che ti è venuta dopo che ti sei mannata ste porcherie purché tu non sia divergente allora avete capito che l'hanno messo a morte Socrate? lo devono mettere a morte lo dovevano mettere a morte soprattutto in un regime democratico in cui a comandare sono oi polloi quindi l'anonimato quindi i più i più hanno deciso ma Socrate dice ma scusa ma se i più dicono una stupidaggine ma dobbiamo metterci i più lì a governare se i più decidono di buttarsi di sotto della finestra è giusto che uno si butti di sotto della finestra ma vuoi indagare tu in prima persona è un antitolo contro i luoghi comuni contro i pregiudizi quindi la filosofia in primo luogo ha il compito di ripulire la vostra mente la nostra mente dai pregiudizi che è un'operazione assolutamente poco confortevole per questo di filosofi ce ne sono pochi ce ne saranno sempre pochi e sempre di meno